Il prefetto ha dato ordine di trasferirla. Non sarà... A Marsiglia ci sono dei nuovi criminali. Abbiamo un problema serio. Avrei potuto aiutarla a trovare gli italiani. E per trovarli servirà... Quel taxi là? Sì. Dove lo posso trovare? Uno, due, tre. Gli italiani attaccano! Eccomi ragazzi! Il taxi, ci penso io. I poliziotti non guidano così di solito! Per il ciclo Gli Eroi dell'Azione, Luc Besson Taxi 5. Giovedì 17 febbraio alle 21.15 in prima visione assoluta su cielo.